Siamo arrivati all'ultimo panel, mi ripresento per quelli che sono cambiati, ultimo ma non ultimo perché anzi è fondante tutto questo discorso. Io sono Marina Rualdi, giornalista del gruppo More News, questo discorso è fondamentale il fatto delle competenze. Parliamo spesso di cultura, abbiamo parlato stamattina cultura, mentalità per approcciarci alla sostenibilità e quindi competenze è il tema chiave. Lo affrontiamo, competenze e collaborazione con Emanuele Pizzurno, professore di Innovation Management alla LUC Università Cattaneo. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio, però io sono qua da stamattina per cui mi sembra di essere in continuo. E poi con Fabio Armanasco, Research and Development Director Power Energia e quindi dalla parte anche delle testimonianze, dei casi diciamo che ci illustrerà. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Entriamo subito nel vivo, professore? Certo. Perché volentieri. Allora, abbiamo scelto questo tema perché è emerso immediatamente, parlando in microfono, devo avvicinarlo. Dovrebbe essere acceso? Non era acceso? Sì, sì. Adesso è acceso, perfetto, grazie. Perché parlando in particolare di comunità energetiche rinnovabili, ma più in generale di interventi di efficientamento, i nuovi impianti per le energie rinnovabili, della estrema complessità che questo tema comporta. Un'estrema complessità che si riverberà in un numero importante di competenze che il singolo soggetto, sia esso una pubblica amministrazione, un'impresa, un'organizzazione non profit, deve avere per portare avanti simili progetti. Possiamo passare alla slide successiva? Ah, perfetto. E lei chiama, può comandare così. Benissimo, grazie. Quindi, le competenze sono tante, sono multidisciplinari. Ne ho citate alcune su questa slide, come vedete. Ovviamente c'è un ambito tecnico che è prevalente, forse quello di cui si parla di più. In realtà poi gli impianti, oltre ad essere realizzati, devono poi essere anche gestiti e quindi c'è una componente tecnica, ma anche una componente manageriale che va a inserire questi impianti in un complesso di impresa o di comunità funzionante. Ci sono importantissime competenze di natura economico-finanziaria, investimenti, il tempo di payback, il ritorno sull'investimento. Ci sono competenze fiscali, i bonus, il trattamento fiscale, la legge Sabatini, che evidentemente coinvolgono questi investimenti. Nonché legali, autorizzazioni, permessi, piuttosto che temi legati alla sicurezza. Ciascuno di questi ambiti richiede competenze verticali, super specialistiche. E quindi già questo è un tema di grande difficoltà. Ma anche la piena integrazione con le altre discipline. E quindi avere il tecnico che non ha minimamente competenze fiscali, avere il commercialista che segue il progetto, ma che non ha minimamente idea di quello che si stia facendo, evidentemente può causare all'investitore criticità importanti. Considerando anche che ciascun ambito, tecnico, legale, amministrativo, economico-finanziario, fiscale, offre delle alternative. Quindi ci sono diverse possibilità che possono essere scelte. Allora, come trovai il percorso giusto, la combinazione giusta? Beh, naturalmente attraverso lo sviluppo di competenze. Sviluppo di competenze che possono arrivare da due fronti. Un fronte interno. Quindi nel progettare nuovi impianti, efficienza energetica, comunità energetiche rinnovabili, bisogna dedicare spazio e investimenti alle competenze. E quindi pianificare la formazione. La formazione ad hoc per le proprie risorse umane, per le risorse umane che verranno coinvolte su questi temi. Punto numero due. Apportare competenze dall'esterno. E quindi pianificare, creare strategie di sinergie, partnership, alleanze, con una serie di soggetti che vedremo poi successivamente, competenti, in grado di supportare la singola organizzazione, ripeto, pubblica amministrazione, impresa, non profit che sia, nella difficile, ma come dire, grande opportunità della transizione energetica. L'attivazione di programmi di formazione, di attività, di apporto di competenze esterne, evidentemente consente di colmare il gap e quindi cogliere pienamente tutte le opportunità che arrivano. Quindi l'idea di fondo che vogliamo trattare questo pomeriggio è quello del miglioramento delle competenze, della riqualificazione delle competenze e dell'allineamento delle competenze, appunto attraverso i due strumenti che ho citato prima. In particolare vedete citato lo strumento dell'innovazione aperta, open innovation, proprio perché dovendo apportare tanta innovazione in azienda, anche sotto forma ai nuovi impianti, evidentemente questo comporta tutta una serie di tool e di esperienze sicuramente molto importanti. Il mio punto di vista è condiviso anche dall'Agenzia Internazionale dell'Energia che ha pubblicato su questi temi moltissimi report. Parliamo innanzitutto di formazione. È interessante vedere come appunto secondo la IEA il personale occupato in energia aumenterà nei prossimi anni, diminuendo, e questo se vogliamo è un dato più intuitivo, diminuendo dalle fonti fossili che vedete indicate con la parte rossa e invece con un aumento delle persone impiegate nella cosetta clean energy, quindi energia pulita, rinnovabile, efficienza energetica. Quindi è un tema di occupazione sicuramente, quello delle competenze, di formazione delle competenze, che può portare risultati molto importanti. Posti di lavoro se ne creeranno tanti, tanti altri evidentemente se ne distruggeranno, e quindi siamo di fronte a un processo inesorabile, inevitabile, di distruzione di competenze, ma anche di necessità di ricreare nuove competenze. Qui non solo avremo nuovi posti di lavoro, perché ciascuna delle opportunità nel campo dell'energia alternativa e dell'efficienza energetica porta posti di lavoro, ma anche riqualificazione di competenze esistenti, alcune delle quali competenze esistenti verranno inevitabilmente perse. Perché per l'impresa è importante? Beh, perché è importante mantenere un presidio dell'area energia. L'area energia non può essere affidata totalmente a terzi. Ci deve essere un presidio interno che non significa che deve fare tutto, significa che deve però capire, valutare le offerte, le proposte, l'andamento del funzionamento degli impianti, deve quindi essere in grado di presidiare completamente quest'area. Deve garantire che gli investimenti siano quelli appropriati e che garantiscono la giusta reddittività. Deve mantenere la struttura dei costi leggera, perché se utilizziamo bene gli strumenti a disposizione, la bolletta cala, i costi unitari per unità di prodotto calano, e quindi la struttura dei costi, in particolare quelli variabili, può scendere in modo molto importante. Rafforzare la competitività, evidentemente, e poi costruire resilienza, perché le fluttuazioni a cui siamo stati abituati, il mercato dell'energia, non sono qualcosa di assolutamente sporadico, inevitabile nel tempo, ma è qualcosa che si ripeterà. Poi non vi so dire esattamente dove, con che intensità, ma dobbiamo essere pronti ad eventuali ulteriori fluttuazioni. E queste si possono combattere solo essendo molto, molto robusti. La cosa interessante, poi Fabio, magari su questo ti chiedo un tuo intervento, è il tipo di competenze. Questo, devo dire, mi ha positivamente sorpreso, ma una ricerca pubblicata recentemente dalla Business School della LUIS, l'altra università di Confindustria, che ha presentato questo report in cui si parla di competenze per la transizione energetica. Benissimo, alcuni dei temi toccati mi trovano assolutamente allineato, sono anche piuttosto intuitivi. Competenze tecniche, economiche, ne abbiamo già parlato, efficienza energetica, economia circolare, per ridurre i consumi a monti, fonti energetiche rinnovabili. E però si parla anche molto di digitale. Si parla molto di competenze digitali, analisi di gestione dei dati, intelligenza artificiale, competenze digitali generali. Quindi emerge, e questo mi sembra un tema interessante da sollevare questo pomeriggio, una convergenza tra la transizione energetica e la transizione digitale. Perché questo sta avvenendo? Beh, sta avvenendo perché i sistemi più evoluti, le CER saranno sicuramente toccate da questo passaggio, ma anche, pensiamo banalmente, la contabilizzazione del calore che adesso avviene in qualunque condominio, stanno passando attraverso sistemi di sensoristica, sistemi di connettività digitale, la presenza di processori, di software, che mantengono tutto il sistema energetico sotto controllo. Quanti di noi ormai, io per primo, hanno la propria app e controllo il riscaldamento di qualunque ambiente di casa propria. Quindi, davvero una convergenza estremamente interessante tra il mondo dell'energia e il mondo digitale. Fabio, ti ritrovi in questa convergenza? Sì, decisamente mi ritrovo a pieno in tutto quello che hai detto fino ad ora, anche perché, partendo un po' dalla definizione di quella che è una comunità energetica rinnovabile, io vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che la comunità nasce per rispondere a dei fabbisogni che sono identificati dai propri membri. E quindi non ci sarà un modello univoco, proprio perché gli obiettivi saranno definiti anche a livello statutario dai membri stessi della comunità energetica. E quello che abbiamo assistito dalla Genesi ad oggi, ricordo che ormai siamo alle porte di quello che dovrebbe essere il decreto che pone fine al percorso di recepimento nel nostro Paese. Successivamente mancherà un pronunciamento da parte del GSE per la definizione delle regole tecniche di accreditamento e un eventuale pronunciamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dal momento in cui il perimetro di riferimento è variato rispetto a quanto introdotto dal recepimento parziale anticipato che ricordo essere stato introdotto a valle della legge 8 2020 nel marzo 2020. Cosa significa questo? Che l'allargamento del perimetro a cui abbiamo assistito, cioè quando si parlava di recepimento parziale anticipato, proprio per il fatto che questo strumento è stato individuato dal regolatore come uno strumento accessorio e necessario per guidare il regolatore in un percorso di recepimento e quindi per avere delle informazioni addizionali che potessero farci capire come orientare al meglio queste iniziative, aveva chiaramente delle semplicità intrinseche che sono state additate da tutti come dei fortissimi limiti per queste iniziative. Limiti perché la potenza massima degli impianti non poteva essere più di 200 kilowatt, limiti perché il perimetro su cui poi rilevare l'energia elettrica ai fini della condivisione e quindi della valorizzazione riconosciuta tramite l'incentivo dal legislatore era sotteso al perimetro della cabina di trasformazione MTBT. Bene, oggi stiamo ragionando con un innalzamento della potenza incentivabile degli impianti fino a un megawatt per singolo impianto e la possibilità di operare i perimetri elettrici sottesi alla cabina primaria, quindi con una molteplicità di soggetti decisamente differente, anche una diversificazione degli stessi, così come una diversificazione delle tecnologie che possono operare all'interno di questi nuovi meccanismi, perché se con il recepimento parziale anticipato bene o male la tecnologia di riferimento è stata la tecnologia fotovoltaica, così non lo è più dal momento in cui c'è un'apertura anche ad altre tecnologie sempre alimentate da fonti rinnovabili che potrebbero partecipare nel dar vita appunto a quello che è il parco di generazione a servizio delle comunità energetiche rinnovabili. Oggi abbiamo un'ulteriore novità, un'ulteriore apertura offerta dal regolatore grazie appunto alla pubblicazione del testo integrato sull'autoconsumo diffuso dello scorso 27 dicembre, che ci permette addirittura di operare per zone di mercato. Questo significa costituire un solo soggetto giuridico che possa essere riferimento per dei bilanci energetici che dovranno corrispondere chiaramente ai perimetri delle cabine primarie coinvolte da questa comunità energetica. E quindi è chiaro che un percorso di questo tipo deve essere sostenuto da una serie di interventi volte a promuovere dei percorsi di capacity building per quelli che sono gli attori che vogliono promuovere e sviluppare queste iniziative. Cosa significa quindi promuovere percorsi di questo tipo? Significa esattamente quello che è stato ricordato precedentemente dal professor Pizzurno, cioè creare competenze perché è un tema che presenta una trasversalità per cui le tematiche trattate, le competenze necessarie devono per forza di cose essere trasversali. Devono andare da competenze ingegneristiche a competenze urbanistiche, a competenze legali e via dicendo. E per fare questo è necessario accompagnare tutti i soggetti tramite proprio quelle realtà che hanno forti radici sui territori, ad esempio le associazioni datoriali, le associazioni di categoria sono un ottimo esempio per promuovere lo sviluppo, la diffusione di queste iniziative sui territori, a un percorso di arricchimento culturale. Quindi quello che va fatto significa veicolare opportunamente un'informazione per creare cultura energetica. Cultura energetica che oggi manca, soprattutto nel mondo ad esempio della piccola media impresa che fino all'altro giorno ha visto la bolletta energetica come una delle voci di costo, un di cui sotteso ai processi produttivi. Oggi la crisi energetica, l'invasione in Ucraina hanno posto un'attenzione a questa tematica, ce ne siamo resi conto tutti. Tutti abbiamo iniziato a sfogliare con più attenzione la bolletta elettrica per capire esattamente cosa stavamo pagando, al di là della materia energia. E questo ovviamente individua una serie di possibilità per rispondere a questi problemi. E una delle possibilità è proprio quella di autoprodurre l'energia elettrica. Quindi uno studio promosso da Rescop nel 2011 diceva che gli autoproduttori di energia rinnovabile in Europa erano circa un milione. Questo stesso studio fa una proiezione al 2050 dove questo milione dovrebbe diventare 264 milioni. Ora capite benissimo cosa significa affrontare un cambio di paradigma. Dove da territorio attraversato dall'infrastruttura è il territorio che diventa infrastruttura stessa. E quindi un'interdisciplinarietà, una apertura, quando si parla di open innovation significa proprio questo, cioè non guardare più all'interno di quelli che sono i nostri perimetri, ma un allargamento di visione, la possibilità di dialogare con realtà che possono essere complementari e possono arricchire un percorso di questo tipo. Proprio perché una transizione come quella che siamo chiamati a compiere è una transizione che necessita la partecipazione di tutti. E su questo punto mi soffermerei molto perché quando dico partecipazione non vuol dire una partecipazione passiva alla quale forse siamo sempre un po' stati abituati a pensare perché è grossa centrale di produzione, l'utente è un consumatore, il famoso consumatore finale. Ecco, oggi proprio grazie a questi strumenti si vuole promuovere il protagonismo del cittadino, il protagonismo dell'utente finale ed è questo uno degli obiettivi introdotti dalla direttiva RE2 che ricordo far parte del più ampio quadro del Clean Energy Follow European Package dove la centralità dell'utente finale è uno degli obiettivi da traguardare e per promuovere obiettivi di questo tipo è necessario che ci sia un coinvolgimento attivo quindi quelli che vengono definiti fenomeni di engagement di forte committe di chi partecipa alle iniziative perché ovviamente il cambio di paradigma ci porta da un'interpretazione in cui se fino a ieri eravamo abituati ad un'incentivazione dell'energia immessa in rete tutta l'energia immessa in rete e quindi un dimensionamento degli impianti che veniva effettuato per potenza quindi la massima disponibilità la massima producibilità dell'impianto che veniva remunerata oggi non è più così il legislatore ci sta dando uno strumento che ci permette di ottenere dei benefici quando si verifica una condivisione dell'energia contestualmente prodotta e consumata dai membri questo significa che la condivisione deve essere supportata da una serie di strumenti ce ne sono diversi tecniche di load shifting quindi differibilità dei carichi elettrificazione dei consumi ma anche consapevolezza di comportamento un comportamento che fino ad oggi non è mai stato regolato è sempre stata di libera iniziativa perché tutto sommato da cliente passivo non avevo la preoccupazione di come migliorare il mio contributo al sistema nel consumare meglio ed efficacemente a questo poi ovviamente va accompagnato un percorso di valorizzazione di quello che è un bene come il bene energia stiamo parlando di problematiche che oggi ci accompagneranno per decenni non sono qualcosa di contingente lo abbiamo sentito anche prima certo non sapremo quando si riverificheranno certe situazioni ma sicuramente quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni è un qualcosa che molto probabilmente caratterizzerà i mercati nel medio e lungo periodo e quindi anche una consapevolezza nel come consumare meno nel come essere più ecologicamente sostenibili è un qualcosa che deve essere promosso infatti la prima parola che si accompagna alla parola transizione è che debba essere una transizione ecologica sia essa energetica ma soprattutto sostenibile e la sostenibilità si accompagna ovviamente a tutti questi percorsi percorsi che possono essere affrontati solo insieme e poi arriveremo appunto al valore delle interazioni che sono necessarie per traguardare determinati obiettivi e che non può prescindere da una corretta informazione che deve essere opportunamente veicolata da quei soggetti che hanno modo di dialogare con le realtà presenti nei territori Manuele ti ripasso magari la parola per proseguire in realtà non ho mai detto niente delle competenze digitali le competenze digitali sì, le competenze digitali sono sicuramente una delle competenze necessarie a promuovere questo percorso di transizione perché? perché la digitalizzazione ormai è un qualcosa di cui sentiamo parlare tutti i giorni avete probabilmente visto anche quello che è successo nella Silicon Valley dove Elon Musk e altri soggetti stanno cercando di bloccare per sei mesi gli studi sull'intelligenza artificiale perché ovviamente prima devono esserci delle regole chiare e poi degli strumenti che potranno essere messi a disposizione in questo momento è un tema che quasi sta sfuggendo di mano ma perché sta sfuggendo di mano? perché effettivamente stiamo affrontando una transizione che è anche una transizione digitale dal momento in cui il dato è prerogativa per riuscire ad ottenere determinati obiettivi dal momento in cui è lo stesso dato che ci guiderà nell'individuare quelle che saranno le strategie e i percorsi da intraprendere in ottica di transizione perché quel dato acquisito in campo quel dato che sarà rielaborato sarà la guida per tracciare un percorso di sostenibilità e quel dato in questo momento è un dato che spesso e volentieri veniva ignorato dal punto di vista di proiezione per l'individuazione di strategie di sviluppo oggi invece è alla base e quindi la transizione digitale che è un qualcosa di cui sentiamo parlare spesso forse troppo spesso i seminari sulle comunità energetiche rinnovabili io ho perso il conto di quanti ne ho ascoltati e a quanti ho partecipato come relatore ecco con la transizione digitale sta avvenendo la stessa identica cosa tutti ne parlano ma non ci sono ancora delle regole chiare di come si possa operare in questo ambito quello che è importante è capire come sia un aspetto fondamentale da salvaguardare, da presidiare e soprattutto da regolamentare affinché possa essere un ulteriore contributo per promuovere una transizione sostenibile si è sempre parlato che il dato guiderà le strategie di sviluppo dei prossimi decenni si è parlato che il dato sarà l'oro del futuro in effetti lo è e la transizione digitale è esattamente quel qualcosa che renderà possibile valorizzare al meglio questi strumenti e queste opportunità creando nuovi posti di lavoro dando vita a figure che oggi neanche conosciamo io vi ricordo che oggi abbiamo circa il 40% delle tecnologie che avremo a disposizione da qui al 2050 per compiere la transizione non si può pensare che come accendere un interruttore domani si passi completamente al rinnovabile senza il contributo di quello che è stato il percorso di un modello energetico che fin qui ci ha guidati ciò detto dovremo prepararci ad accogliere nuove figure nuove competenze competenze che probabilmente come già ricordato prima saranno delle competenze trasversali che dovranno dialogare con quelle competenze verticali con le quali siamo invece più abituati forse a confrontarci e quindi ecco da parte mia ripeto la transizione digitale l'aspetto digitale è sicuramente uno degli aspetti fondamentali che dovrà essere tenuto in considerazione anche nel promuovere questi strumenti Lo vedo anche come incidenza altissima sulla professione emergenti quasi un quarto se lo vedo bene Sì sì assolutamente quindi sia da del numero poi comunque è chiaro che l'incidenza è sicuramente importante tanto che appunto un po' come come ricordava l'ingegnere Armanasco le professioni stanno risentendo tantissimo di queste novità e quindi la richiesta di nuove professioni è sicuramente molto molto forte quindi dal certificatore energetico al progettista o installatore di tecnologie vedete le più disparate la figura dell'energy manager adesso ancora magari confinata solo alle realtà più grandi più energivore che in realtà diventerà sempre più diffuso come figura di riferimento proprio per governare questi processi incredibilmente complessi o il giurista che ancora una volta dovrà guadagnare uno spazio di specializzazione proprio nelle aree nelle tematiche green green energetiche Se le posso chiedere professore e questo mi ha tirato l'occhio giurista green energetico in un momento in cui penso alla giurisprudenza tutto questo aspetto è andato un po' calando anche per overbooking diciamo di richieste ecco che è un'opportunità anche per chi ama questi studi quindi la sostenibilità veramente è un'opportunità formativa quindi di professioni per il futuro anche in questi ambiti ma mi ha colpito il giurista green come nuova professione emergente Certo, assolutamente è una specializzazione ormai è una professione qua del giurista dell'avvocato che segue da tempo ormai dei filoni di forte specializzazione proprio perché ciascuno degli ambiti normati poi di fatto ha una sua complessità tale per cui richiede degli specialisti quello dell'ambiente dell'energia sta prendendo esattamente questa forma e quindi in effetti è vero anche chi è già presente nella professione o chi intende affacciarsi a questa professione indubbiamente è piuttosto affollata nel nostro paese tanto che confermo anche dal puntista gli ucchi i cali delle iscrizioni sono stati molto importanti però è altrettanto vero che chi si occupa di questo tipo di attività che riguardano l'ambiente e l'energia sicuramente troverà spazi interessanti di lavoro beh adesso affrontiamo il tema numero due quindi quello dell'innovazione aperta che in realtà l'ingegnere Manasco aveva già anticipato ma come dire ha stata un'anticipazione assolutamente ben calata nel discorso che stavamo facendo quindi se ne sente parlare sente parlare moltissimo quindi l'idea che le attività dell'impresa non siano attività di innovazione svolte esclusivamente all'interno utilizzando proprio personale ma che siano anche attività che coinvolgano soggetti esterni e questi soggetti esterni vengano coinvolti sempre di più sempre più intensamente sta ormai prendendo piede anche anche nel mondo dell'energia naturalmente chi ha aperto la strada sono stati come in altri ambiti grandi colossi energetici che ovviamente nella necessità di poter innovare le proprie attività poter abbracciare in modo pieno energie alternative soluzioni alternative rispetto alle energie più tradizionali hanno avuto la necessità di cavalcare tutte le novità tecnologiche tutte le innovazioni che fossero disponibili e quindi quando parliamo di idrogeno quando parliamo di futuro a zero emissioni il tema dell'open innovation dell'innovazione aperta diventa sempre più ricorrente e allora la riflessione che facevamo era relativa al fatto di quanto questo modello questo modo di ragionare che appunto è nato nelle grandi imprese energetiche possa essere vincente anche per le piccole e medie imprese che cercano soluzioni tecnologiche per la gestione dell'energia quindi la produzione e gestione dell'energia che siano efficaci e stabili e quindi la raccomandazione anche in questo caso è di complementare nota bene non sostituire le risorse interne complementarle con competenze che arrivano dall'esterno la complementarietà e la non sostituzione derivano dal fatto che come abbiamo detto in precedenza è opportuno che ciascuna impresa mantenga un presidio forte sul tema energia è un tema strategico è un tema di reddittività ma anche di sopravvivenza dell'impresa e quindi un presidio interno ci deve essere ma se un presidio interno ci deve essere perché non andare a pescare fuori quelle competenze che inevitabilmente vengono a mancare anche in presenza di piani di formazione adeguati perché perché la complessità è tale la dinamicità è tale per cui la necessità di ricorrere a soggetti esterni può diventare assolutamente impellente allora in questo campo esistono imprese specializzate esistono tante start up che stanno lavorando su questi su questi temi magari incubate a Comonext o in qualche incubatore vicino ci sono università anche sul nostro territorio centri di ricerca ci sono le associazioni di categoria che lavorano tantissimo sul fronte dell'energia ci sono le energy service company ci sono i singoli professionisti in grado di fornire tecnologie e competenze specialistiche con un approccio di open innovation innovazione aperta quindi di condivisione del know-how con l'impresa che li che li ingaggia per questo tipo di attività e quindi quindi l'invito evidentemente è a muoversi in questa direzione ecco con un approccio però un po' attento nel senso che è un ambito nel quale è bene che prevalgano le collaborazioni di lunga durata piuttosto che il mero outsourcing alla ricerca del fornitore più economico proprio perché è un mercato che si sta evolvendo con una tale rapidità le soluzioni cambiano con una tale frequenza che è bene avere un presidio interno ed esterno forte sulle diverse soluzioni e quindi quello che ci sentiamo di raccomandare è di stabilire accordi di lunga durata che partono dal diagnosi energetica che è evidentemente l'aspetto più basilare in qualunque situazione in cui si vuole intervenire perché capire come è la situazione iniziale capire quali sono le opportunità nel caso di specie e non in generale evidentemente il punto di partenza più importante e poi per arrivare naturalmente ai singoli interventi singoli interventi che però non sono una volta fatti siamo a posto ma sono una volta fatti vanno gestiti monitorati e va capito qual è il momento il grado di sostituzione delle tecnologie esistenti con un'ottica quindi con una prospettiva un po' un po' di lungo periodo e quindi l'idea è di aprirsi di aprirsi e di coinvolgere partner in modo continuativo e questo può essere fatto non è un modello astratto teorico ma è qualcosa che può essere fatto pochissimo tempo fa c'è stata una bella collaborazione di cui voglio raccontarvi tra Luke Philips Lighting quindi la divisione della multinazionale Philips che si occupa di illuminazione adesso ha cambiato nome si chiama Signify è stato un rebranding e l'azienda della provincia di Varese capitanato ovviamente da Confindustria Varese abbiamo svolto tutti insieme questa attività di ricerca guidata da Luke dal punto di vista della ricerca che si chiamava il valore aggiunto nell'adozione dei sistemi di illuminazione avanzati un'indagine nel tessuto industriale della provincia di Varese quindi da un lato abbiamo mappato competenze prassi delle aziende manifatturiere sul tema dell'illuminazione dall'altro appunto con il supporto di un provider di tecnologie del livello di Philips quindi estremamente avanzato abbiamo potuto creare cultura su queste soluzioni e diverse aziende che poi hanno partecipato al progetto di ricerca hanno anche poi scelto di adottare alcune delle soluzioni presentate da Philips o soluzioni simili ma di altri di altri competitor perché hanno evidentemente avuto modo di apprezzare gli aspetti tecnologici che queste soluzioni comportavano e quindi di fatto una collaborazione tra una grande impresa un'università una sezione di categoria e una pluralità di aziende manifatturiere ma anche dei servizi la distribuzione alimentare quindi in realtà era un tessuto piuttosto ampio ci hanno consentito di lavorare insieme di realizzare una ricerca significativa e poi di arrivare anche a dei risultati per le aziende che hanno partecipato estremamente concreti e vantaggi importanti questo prima dell'esplosione dei prezzi dell'energia e quindi come dire abbiamo avuto anche il piacere di guidare chi ha voluto seguirci in questa attività di ricerca era assolutamente su base volontaria verso una maggiore efficienza che poi ex post è stata largamente apprezzata visto che i risultati sono stati davvero davvero importanti Fabio vuoi portarci anche tu qualche esempio qualche caso di collaborazione tecnologica di Open Innovation che ha portato a rapporti positivi tra imprese sì allora più che degli esempi volevo diciamo collegarmi al ragionamento che hai appena fatto quindi come è stato detto è un po' prerogativa quello di creare dei percorsi di accompagnamento piuttosto che rivolgersi a quello che può essere il consulente e affidare queste attività con il banale metodo dell'outsourcing perché questo allora io vi riporto quello che accadrà nei prossimi anni in 2026 le PMI quotate avranno l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità oggi stiamo parlando di comunità energetiche rinnovabili le comunità energetiche rinnovabili sono uno degli strumenti a supporto della transizione sono anche uno strumento di dialogo per una serie di realtà imprenditoriali che dovranno essere guidate in un percorso di transizione cioè se è vero che è impensabile come una PMI possa avere al suo interno tutte le competenze necessarie per compiere un percorso di transizione è altrettanto vero che un percorso di questo tipo debba essere compartecipato e guidato da soggetti e quindi professionisti che possono supportare magari anche una serie di aziende e qui nuovamente rientrano in gioco diciamo le associazioni di categoria le associazioni datoriali che possono raccordare dei fabbisogni comuni e interpretare dei percorsi condivisi per quelle che sono ad esempio le aziende che vivono e appartengono a quelle realtà allora partendo da questo inciso dal fatto che appunto già nel 2026 le PMI quotate avranno obbligo di rendicontazione pensate che a breve poi questa cosa sarà declinata anche su realtà più piccole meno strutturate e un percorso di questo tipo ha ancora moltissimo da costruire torniamo quindi nuovamente anche a quelle che saranno le nuove figure professionali di cui potremo godere in un prossimo futuro ma se parliamo di sostenibilità oggi la prima cosa che ci viene in mente è chiaramente quello delle tematiche ISG predominanti quindi la riduzione dell'impronta carbonica ma ovviamente legato al tema della riduzione dell'impronta carbonica dove il fatto di fare un'analisi GHG emission è sicuramente il punto zero per impostare un percorso di transizione ci sono poi tutta una serie di attività che potranno essere svolte che riguardano chiaramente analisi anche di climate risk assessment ora se parliamo di climate risk assessment quello che spaventa tutti è il rischio fisico perché siamo bombardati anche da notizie dei media di tutti i giorni di quelle che sono delle situazioni con particolare incidenza anche dal punto di vista atmosferico meteorologico e sicuramente affrontare il rischio fisico per una serie di filiere produttive è importantissimo avere dei modelli predittivi su come poter riuscire ad affrontare fenomeni di questo tipo ma quello che più ci dovrebbe preoccupare non è tanto il rischio fisico quanto il rischio di transizione allora quando si fa climate risk assessment cosa significa affrontare il rischio di transizione significa arrivare preparati a tutte quelle normative quindi a quel quadro legislativo regolatorio che imporrà delle scelte strategiche per il paese e queste scelte ovviamente saranno declinate su tutte le realtà produttive che dovranno per forza di cose sottostare a quelle regole oggi abbiamo sentito appunto come si è intervenuti su quello che doveva essere la impossibilità di produrre veicoli con motori endotermici già a partire dal 2035 adesso abbiamo la ricorsa appunto ai biocombustibili benissimo è un'alternativa ma questo cosa significa che tutta la filiera produttiva sicuramente sarà chiamata ad un percorso di sostenibilità che dovrà renderci sempre più indipendenti dai combustibili fossili e dagli altri mercati nell'approvvigionamento delle materie prime ecco quello che è il rischio di transizione c'è un quadro regolatorio al quale dover sottostare per poter continuare a mantenere in vita le proprie filiere produttive e ricordiamoci che la PMI è il cuore pulsante del nostro paese e senza la PMI non staremmo qui a parlare neanche di transizione quando quindi affrontiamo un tema di questo tipo è chiaro e ho apprezzato moltissimo quanto detto prima dal professor Pizzurno che bisogna accompagnarsi a delle realtà con delle prospettive di medio-lungo termine perché è un vero e proprio percorso che non è ancora definito in molti aspetti e in molti processi si parla addirittura di creazione di crediti energetici di piattaforme di scambio dei crediti energetici tutte quelle che sono le tecniche di carbon offsetting così chiamate in gergo quindi tutte quelle strategie di mitigazione per chi magari non ha la possibilità di intervenire direttamente sui propri processi produttivi perché magari sono quei classici processi hard to abate e quindi bisogna trovare degli strumenti per compensare quell'impossibilità di intervenire in maniera diretta ma come si fa a intervenire in maniera diretta lo abbiamo sentito prima si parte da un audit da una fotografia di quella che è la condizione ad oggi di quella realtà per individuare quelli che sono gli strumenti di efficientamento di riduzione dei consumi e di miglioramento dei processi perché legato a tutte queste tematiche c'è anche chiaramente il tema richiamato fortemente in questa settimana dal momento in cui c'è stata anche la giornata mondiale dell'acqua quindi la risorsa idrica oggi è un tema fortemente richiamato dove il water consumption viene spesso e volentieri trascurato dall'azienda perché era un di cui anche quello sotteso ai processi produttivi oggi non è più così così come la gestione dei rifiuti l'economia circolare di cui tutti sentiamo parlare è un altro strumento virtuoso che dovrà essere integrato nei percorsi di transizione sono davvero moltissimi i casi che ho avuto il piacere anche di seguire dove un approccio di questo tipo una visione di questo tipo nel mettersi a disposizione confrontarsi con altre realtà capire come altre realtà hanno affrontato determinate problematiche chiedere quindi supporto a figure professionali che abbiano supportato queste imprese nell'individuare dei percorsi di sostenibilità le abbia completamente riqualificate aumentando anche quelli che sono gli indici di accettabilità a livello sociale di queste realtà sui territori creando filiere locali creando occupazione quindi andando nuovamente a traguardare una serie di obiettivi che anche le comunità energetiche rinnovabili dovrebbero traguardare contrastare la povertà energetica l'abbandono delle aree interne marginali sono tutte cose che magicamente nuovamente vengono richiamate anche da queste tematiche ecco perché le comunità energetiche rinnovabili io le ritengo uno strumento virtuoso per promuovere una transizione sostenibile e uno strumento che deve essere accompagnato ad un percorso di sostenibilità che solo in una visione di questo tipo quindi grazie a un approccio di tipo open innovation può davvero garantire di raggiungere determinati obiettivi e di creare valore per quei territori e per quelle realtà in corrispondenza di quelle che sono le sitospecificità delle stesse perché ovviamente ci sono anche delle infrastrutture piuttosto che delle caratteristiche a livello territoriale che accomunano determinate realtà determinati territori e quindi indirezzeranno determinati percorsi di transizione piuttosto che altri ecco quindi come cogliere secondo me nella maniera più virtuosa una straordinaria opportunità che oggi l'Europa e anche il legislatore ci stanno dando se ti diamo un po' le fila magari c'è qualche domanda un quesito se no ne ho uno io che mi ha sollevato sì benissimo benissimo più che volentieri sì aggiungo solo un'ulteriore informazione a quanto discuteva adesso l'ingegnere Manasco sollecitando anche una certa riattività da parte delle imprese delle comunità da parte di chiunque si occupi di energia ma più in generale di sostenibilità nel senso che anche i casi recenti hanno dimostrato quanto sia difficile inseguire questi cambiamenti quindi chi si trova a reagire nel momento in cui il cambiamento è avvenuto ha il costo dell'energia aumentato ha devo fare qualcosa questo atteggiamento reattivo è estremamente penalizzante perché nel momento in cui si trova a reagire innanzitutto si è già iniziato a subire tutte le criticità che la mancata reazione precedente ha evidentemente causato e poi i costi di investimento i tempi di investimento si allungano poi a dismisura quindi dal mio punto di vista dalla mia esperienza raccomandabile una certa strategia anticipativa perché tanto una serie di passaggi per chi come noi ma per chi ho citato anche durante la presentazione è esperto di questi temi i passaggi successivi dettati in parte dal mercato in parte dal legislatore sono piuttosto chiari quindi è bene cercare di prevenire certi fenomeni e prevenire certi cambiamenti piuttosto che reagire perché la reazione purtroppo è estremamente costosa mi taccio lascio spazio alle eventuali domande c'è qualche domanda qualche curiosità che vi ha innescato l'intervento ai nostri due relatori se posso farla io perché mi piaceva molto giustamente lei è stata nei tempi scorreva la sua relazione quando parla di collaborazioni tecnologiche in ambito energia faceva alcuni esempi iniziative meno tradizionali le ha definite magari se facciamo un passaggio su quello perché in effetti sono dei bei metodi per innescare delle collaborazioni con buoni risultati indubbiamente li abbiamo citati proprio perché sono dei metodi che abbiamo visto applicati che possono portare risultati interessanti il primo l'interno dell'idea generation contest è proprio l'idea di partire dal proprio personale che vive quotidianamente l'azienda gli uffici gli impianti che magari conosce molto bene gli impianti produttivi sono ovviamente loro le prime persone forse è banale dirlo ma a volte viene dimenticato sono le prime persone con le quali interagire in un'ottica di efficienza energetica in un'ottica magari di affiancamento all'energy manager o ai consulenti esterni che operano all'interno dell'impresa per degli interventi di questo tipo proprio perché la generazione di idee che arrivano dall'interno da chi vive la quotidianità di certe attività evidentemente è una risorsa estremamente preziosa che va sfruttata al massimo e quindi l'organizzazione anche di un piccolo contest piccolo concorso o qualcosa del genere che assume anche un aspetto un po' ludico è davvero estremamente estremamente interessante la seconda è di guardare con attenzione alle piccole imprese alle piccole nuove imprese alle start up che si manifestano e che si manifestano sul territorio che si manifestano da parte di giovani ragazzi e magari neolaureati perché è un mondo che può portare idee soluzioni fresche in contesti magari più maturi più tradizionali più si è sempre fatto così che più difficilmente hanno la capacità di generare al proprio interno nuove idee parlare di start up sembra sempre di parlare di Silicon Valley di posti esotici di soggetti un po' pittoreschi ma in realtà non è così c'è anche quella componente ma c'è anche una componente come dire molto più pragmatica molto più locale di buone idee buone tecnologie che vengono sviluppate che possono essere interessanti altrettanto sono le call for ideas cioè l'idea di andare a chiedere fuori ad un pubblico eterogeneo contributi appunto nuove idee dal punto di vista della sostenibilità dell'energia piuttosto che tecnologie e applicazioni per risolvere un certo un certo problema anche queste le ho viste funzionare non solo in contesti di imprese più grandi ma anche in contesti di media piccola dimensione ed essere estremamente efficaci con i miei studenti partecipiamo regolarmente ad attività con imprese anche molto grandi ma anche di piccole dimensioni che vengono da noi e ci dicono ma vorremmo lavorare su questo problema e noi lanciamo il challenge agli studenti poi ci rivediamo tra sei mesi con l'impresa e noi in questi sei mesi lavoriamo con gli studenti sul challenge che ci viene promosso e ricordo in più di un'occasione capi di ricerca e sviluppo di De Longhi di Samsung quindi personaggini che non è che esattamente hanno al loro fianco incontrano tutti i giorni degli sprovveduti eppure estasiati dalle idee generate che poi hanno acquisito dagli studenti che sono ovviamente i detentori della proprietà intellettuale e hanno sviluppato portandole al mercato idee che erano completamente fuori dal loro dal loro percorso perché il giovane lo studente non ha quelle barriere mentali quel sempre fatto così ma nel nostro settore si fa così che evidentemente fungono un po' da barriera all'innovazione e qui le idee sono fresche sono spontanee a volte un po' ingenue ma ci sta nel mare magnum delle idee proposte alcune sono veramente di grande interesse quindi anche in questo senso pensare un po' fuori dagli schemi può ogni tanto essere utile e questo mi fa pensare a un concetto che ha trasmesso con forza lei siamo tutti protagonisti sì decisamente il protagonismo ripeto è al è al centro di questo paradigma quindi il fatto di pensare di essere tutti coinvolti in un percorso di transizione fa sì che ci debba essere responsabilizzazione di ciascuno di noi cultura energetica e allo stesso tempo condivisione condivisione non solo di obiettivi ma anche voglia di confronto e un confronto che deve essere a volte stimolato come è stato detto adesso tramite opportuni strumenti e a volte promosso a livello spontaneo perché sono ovviamente tutta una serie di meccanismi che possono avere diverse declinazioni e quando si ha un approccio di tipo top down dove arriva una guida dall'alto il rischio qual è? Quella di una pochissima responsabilizzazione da parte di chi poi deve vivere quelle iniziative deve promuovere quelle iniziative e quindi è chiaro che favorire un approccio invece di tipo bottom up ma che abbia delle guide dall'alto e quindi che abbia dei riferimenti anche a livello normativo esattamente come quello che stiamo vivendo oggi per le comunità energetiche rinnovabili è la chiave proprio per permettere di traguardare questi obiettivi nella maniera più virtuosa possibile. Io vi ringrazio condivisione vuol dire anche che ci sono le slide a disposizione e poi oggi abbiamo avuto la condivisione e il confronto con l'area matching che è quella che ha permesso di incontrare di contaminarsi di scambiarsi i contatti per il futuro quindi l'abbiamo messa in pratica al 100% e vi ringrazio ancora se non ci sono domande e quindi vi salutiamo e buon lavoro di transizione grazie grazie a tutti grazie per l'opportunità grazie 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 grazie